Ma... tu... chi sei veramente? Credevo di essermi già presentato. Sono un Saiyan venuto dalla Terra appositamente per eliminare te. Io sono l'essere più forte della galassia, che nonostante la rabbia riesce a combattere con cuore sereno. Sono il Super Saiyan, il prescelto! Grazie a tutti! Cominciate a combattere! E ho visto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E adesso vogliamo procedere, signori? E' inutile! Oh no! BOST! È giunta la tua fine! BOST! È giunta la tua fine! È giunta la tua fine! È giunta la tua fine! BOST! 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 Mancano pochi minuti e il pianeta la becca con tutto ciò che si trova sopra sarà ridotto in polvere! Pochi minuti sono più che sufficienti! Riuscirò sicuramente a batterti e a mettermi in salvo insieme agli altri sulla mia navicella! Sono pronto! Hai davanti a te il vero grande freezer! Non ci rimane molto tempo quindi vediamo di farla finita! Cominciate a combattere! E' inutile! Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.